Dicono che un bel V ci ritroveremo tutti là, ognuno col suo corredo di retroattività. Sarà. Gli è che mi è difficile nel coro lamentevole d'ombre diafane distinguere una sola identità. Sarà. Dunque vuolsi così colà dove regna sua entità, e più non speculare. Fatto sta che un becchino colorato, un macabro arlecchino mascherato, mi ha traghettato su a sponte sulle acque di un serenissimo aceronte. Mi scusi, lugubre gondoliere, saprebbe dirmi per pietà il tariffario popolare del prossimo bastimento diretto all'aldilà? Grazie. 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 Grazie.